Sotto sequestro a Sapri l'area cantiere delle ferrovie dello Stato in località Santa Domenica, il provvedimento è stato emesso dalla polfera al termine degli accertamenti eseguiti congiuntamente con il comando dei vigili urbani. Nel mirino i liquidi presumibilmente pericolosi riscontrati nel torrente che costegge il cantiere. Mercoledì mattina al comandante Antonio Abbadessa della Polizia Municipale è giunta una telefonata che segnalava odori di carburante proveniente dal canale Santa Domenica, un percorso d'acqua che attraversa la centralissima via Kennedy prima di sfociare a mare. Immediatamente è stato allertato il comandante Carmine Nicodemo della locale Polizia Ferroviaria ed insieme ai vigili ha iniziato a percorrere il tragitto del canale partendo dalla costa fino a raggiungere le aree a monte, rivenendo tracce di liquidi maleodoranti. Con molta probabilità si tratta di idrocarburi e quindi di rifiuti molto pericolosi. Nel pomeriggio sono giunti sul posto i responsabili dell'ARPAC che hanno proceduto ai prelievi. In attesa dei risultati l'aria cantiere è stata sequestrata. L'indagine in corso dovrà servire a chiarire la natura dei liquidi maleodoranti e ad individuare chi li ha sversati nel torrente. Il canale Santa Domenica sfocia lungo un tratto della costa in largo dei 300 ed è tra i più frequentati della città della Spigolatrice. Del caso è stata informata anche la locale guardia costiera.